Quindi è molto importante la stesura di questi metalli prima che ci sia poi la cottura perché questo è una valentia che il prodotto risulti perfetto. Quindi è ancora molto più complicato, molto più impegnativo. Sì, 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 anche per i giorni che non rimangono nelle piccole parti scoperte perché poi il cemento si nota e bisogna ripostarlo un'altra volta nel forno. Bene, abbiamo parlato di decorazione, gli oggetti sono pronti per essere impallati e spediti ma a questo punto dobbiamo fare un salto all'indietro. dobbiamo vedere i disegni e gli stampi da cui nasce tutto questo.